Bentornati alle cronache quasi quotidiane, alle cronache alterne, con me come sempre ci sono Carla Menta e Carlo Stagnaro, ma siccome oggi volevamo parlare delle virtù dello stato innovatore, dello stato imprenditore e di quanto virtuosamente stiamo scoprendo quanto bene possa fare un'idea di politica di innovazioni e politica economica. Non sei credibile, non sei credibile, tu stai facendo, vai avanti. Stiamo cercando di leggere il gobbo, contro la mia coscienza, ma per tutti questi motivi non ne parliamo da soli, ma ne parliamo insieme. Con la massima esperta dello stato imprenditore che ci sia in questo momento sul pianeta. Quindi abbiamo Mariana Mazzucato. Abbiamo Mariana. Mariana. Più o meno i capelli si stanno allungando. Sono lì, sì. Abbiamo Mariana Mazzucato, ma ne abbiamo un alter ego, dai, un alter ego di Mariana Mazzucato e c'è Alberto Mingardi, che dopo questa credo che non mi rivolgerà più la parola. Per verità. Io mi sono anche preparato con lo sfondo opportuno, ho pensato di metterci una delle più importanti realizzazioni dello Stato innovatore, ovviamente qui ritratta dopo la privatizzazione. Esatto. La morte nera, come tutti ricordano. Quindi Alberto, dici un po'. Ci sembra di aver capito che, in pratica, nonostante noi continuiamo a vedere da parte dello Stato, l'abbiamo detto tante volte, ma ci piace ripetere. Perché tutti i difensori dello Stato, era il momento in cui anche noi stavamo a guardare lo Stato, dicendo, beh, l'intervento dello Stato sarà risolutivo. Sarà in grado di coordinare, sarà in grado di intervenire, sarà in grado di fare quello che le persone chiuse a casa, per ordine dello Stato, non possono fare. E' il momento degli statalisti. Eravamo pronti a chiuderci al fronte, mettere gli elmetti, tirare fuori le vaionette, però... Vabbè, diciamola tutti, eravamo pronti a mettergli scola, basta, a tirare fuori forchette e coltelli. Esatto. E' più o meno lo Stato intellettuale dell'armata avversa, devo dire. Ecco, benissimo. Allora Alberto, mi sembra che lo Stato non sia riuscito a fare neanche lo Stato. Raccontaci un po'. Come dire, io non penso che sia un problema con la professoressa Mazzucato, alla quale vanno i sensi della nostra stima. C'è forse un problema, diciamo così, con la funzione editoriale ogni tanto, no? Alla fine ci sono delle agenzie che dovrebbero selezionare, rivedere, costringere un pochettino o persone anche come noi, quando dicono qualcosa, ad argomentarla un pochettino, no? Sono più o meno 2.500 anni che nella nostra parte di mondo, se uno dice qualcosa, non è che può dirla così e basta. Deve portare delle prove, suggerire degli argomenti, poi si discute, le mie prove saranno migliori delle tue, o il contrario. Invece anche in un recente articolo della professoressa Mazzucato con un coltore Quaggiotti, si dice che il problema della risposta al Covid-19 è stato che c'è troppo poco Stato, lo small government sostanzialmente. Perché? Boh, perché lo ripetiamo tre volte che il problema è lo small government e quindi sarà vero. Tra l'altro è un articolo, veramente credo da leggere, che raccomanderei a tutti, per gli esempi di big government e di small government che sono citati. Lo small government è l'Inghilterra, dove ci sono state le privatizzazioni, l'outsourcing, eccetera. Invece lo Stato innovatore, lo Stato imprenditore, quello che sa fare le cose, interviene nell'economia, disegna i mercati, prepara la strada di innovazione, e coincide con il Nuovo Zelanda, con il Pakistan e con il Vietnam. Tre esempi di Stati, diciamo. Un po' curioso, ecco, evidentemente il Vietnam e il Pakistan è difficile che siano stati pesanti. Ricordiamolo sempre a chi vi guarda, anche se lo sa già. La spesa pubblica è un po' come le vacanze. Se sei ricco, puoi averne tanta. Se sei povero, c'è niente da fare, non vai in vacanza alle Maldive, devi accontentarti di Coboleto, di Arenzano, di quei posti lì, insomma. E questi sono stati che ovviamente vedono una situazione diversa dalla nostra, il reddito pro capite è su livelli lontanissimi da quelli dell'Inghilterra, da Nuova Zelanda, anche dell'Italia, e quindi la spesa pubblica è quella che è. Poi, per carità, la spesa pubblica non basta per definire la dimensione di uno Stato. Però è curioso che proprio fissandosi su quella cosa lì, cioè serve lo Stato per rispondere in modo efficace al Covid-19, non venga in mente, che so, la Germania, sicuramente uno Stato pesante, insomma, funziona meglio del nostro, ma è uno Stato pesante anche lui, ma invece paesi così frugali per utilizzare un aggettivo, frugali per necessità, per utilizzare un aggettivo che va per la maggiore in questi giorni, no? Ecco, Alberto, io da questo punto di vista avevo anche un po' una curiosità. Tu facevi anche l'esempio dell'Italia come il paese che, come in questo articolo in cui ricordavi e commentavi queste considerazioni della professoressa Mazzucato e il suo coautore, ricordavi che l'Italia è stato il paese che ha seguito la Cina, non è un grande primato, però ha seguito la Cina nel lockdown, nel senso che è un paese che più di tutti gli altri, e sicuramente più di tutti fra i paesi democratici, la Cina ricordiamo che non lo è, ha fatto un lockdown particolarmente... No, perché Stagnano magari si confonde, Stagnano ci tiene, lui è così, è maoista. Un lockdown particolarmente severo, altri non l'hanno fatto. La sensazione però, così, a guardare quello che succede in giro per il mondo, che davvero, e qua vorrei avere un po' la tua opinione, davvero il lockdown, quindi l'azione del governo anche in quella cosa che qualcuno potrebbe anche riconoscere, cioè hanno fatto bene a chiudere, hanno fatto male a chiudere, davvero il lockdown, mano a mano che andiamo avanti, sembra essere solo uno dei fattori che ha contribuito a maggiori o minori morti. L'Italia, che ha fatto il lockdown più severo, è comunque uno dei paesi che ha il maggior numero, purtroppo, di morti per questa tragedia. Ecco, anche in questo caso, l'azione del governo sembra, in qualche modo, non troppo efficace ed efficiente, mentre potrebbe esserlo l'azione delle persone, cioè il fatto che noi abbiamo imparato a distanziarsi. Anche in questo caso, forse, gli individui sanno meglio del governo cosa è bene per loro. Insomma, l'avete detto tante volte anche voi, in quei giorni, in giorni di grande casino e di grande paura, indubbiamente cosa si poteva decidere. Con informazioni limitate, diciamo così, si è scelta una variante estrema del principio di precauzione. Però, la cosa che fa specie non è tanto quello, ma è tutto ciò che lo Stato, magari proprio lo Stato, non necessariamente lo Stato imprenditore, ma lo Stato compratore avrebbe dovuto fare da allora in poi. Noi siamo arrivati a questa benedetta fase 2, l'ha fatto, non l'ha fatto, adesso facciamo la sperimentazione dell'app in tre regioni, i reagenti li abbiamo comprati l'altro giorno, la situazione delle mascherine è stata quella che sappiamo, pur essendo solo serena su un poltrona, mentre noi non siamo eccezionalmente sul divano, almeno per questa trasmissione. Cioè, immaginate solo questo, pensate che negli ultimi mesi abbiamo avuto tanti problemi, ma grossomodo gli scaffali del supermercato li abbiamo sempre trovati pieni. Sì, per carità, la farina, quando abbiamo tutti deciso, fatta persino io la focaccia in casa, quindi è stato un momento di produzione di pane focaccia. Però io ti diffido dall'utilizzare il termine focaccia per qualunque alimento cucinato al di fuori della terra santa. Da una parte. Poi effettivamente la mia sembrava una specie di grosso biscotto salato dai contorni in preci... ma la Sicilia, insomma, come fuori. Vabbè, diciamo, era la versione della focaccia fatta dallo Stato imprenditore. Esatto. Però immaginiamo di aver lasciato, come dire, gli approvvigionamenti alimentari non al Carrefour, all'Esselunga, quel che fosse, ma al commissario Alcuri. Cioè, se lo Stato imprenditore avesse dovuto occuparsi di farci trovare i cornflakes piuttosto che i legumi al supermercato, insomma, questa cosa strana che sono milioni di interazioni tra individui e aziende che noi chiamiamo mercato e che, a dire il vero, diciamo la verità, non è che noi si capisca bene come funziona. Sappiamo che c'è e che ha la sua magia. Però la sua magia l'ha fatta anche stavolta. Tutto quello che invece era importante, era di prima necessità, era veramente essenziale quando non addirittura strategico per l'emergenza, sappiamo come è andata a finire. Cioè, sotto tanti aspetti, credo che la migliore decisione del governo sia stata una cosa strana che era il regime delle autocertificazioni per le filiere essenziali. Una, come dire, una dichiarazione di resa, ma meglio la resa del fuoco amico. Esatto. Senti, Alberto, io su questa cosa dello Stato imprenditore di chiacchiere ce ne stanno tante, tanti che vogliono nazionalizzare anche appunto la filiera alimentare, il golden power sulla produzione, sugli approvvigionamenti anche alimentari. Però rispetto alle tante uscite uscite poi di fatto dal punto di vista proprio dello Stato che si rimette a fare le cose, c'è per fortuna ancora molto meno. Però io mi chiedo se non sia già abbastanza o fin troppo anzi Stato imprenditore uno Stato che anche se senza nazionalizzare nulla comunque dirotta qualcosa come 55 miliardi solo nell'ultimo decreto deviando, autorizzando la deviazione dall'equilibrio di bilancio e quindi comunque si appropria di una marea di soldi che peraltro non ha, non ci sono. Non ci sono. Quindi, cioè, la paura dello Stato, il timore almeno nostro dello Stato imprenditore, opinabile, ma comunque senz'altro nostro, dello Stato imprenditore, si realizza solo quando avviene una legge di nazionalizzazione delle banche o come la mia idea si realizza anche quando appunto esce un con decreto legge peraltro una roba che vale tre manovre di bilancio. Ma il disegno, forse disegno è un po' eccessivo come parola in queste circostanze, però se dovessimo immaginare un disegno il disegno sarebbe quello di farci vivere tutti in una società più dipendente, no? Un vecchio solido disegno corporativo, dipendiamo tutti da questa grande alla fine mucca da mungere dal punto di vista dei singoli individui ma che pone in essere comunque una serie di ricatti e che cambia la mentalità delle persone. Insomma, noi ci ricordiamo una cosa molto semplice, le cose che scriveva Sturzo per esempio negli anni 50 riflettendo sull'economia fascista erano tutte lì, la trasformazione del paese in un paese dipendente proprio psicologicamente dallo Stato. Quindi se dovessimo pensare che c'è un'idea l'idea sembrerebbe essere questa. se dobbiamo guardare all'esito la cosa che a me fa più impressione è che l'esito è francamente terrificante. Non lo so, se dovessimo inventarli noi i fallimenti dello Stato se avessimo dovuto metterci qui e dire adesso scriviamo una storia su come la pianificazione pubblica non funziona, su come il controllo dei prezzi non funziona, su come le mance non funzionano non ci sarebbe venuta così bene insomma la fantascienza sui fallimenti dello Stato non ci sarebbe venuta bene come l'hanno scritta da soli loro. E' una delle cose più inquietanti che sono riusciti a scriverla così e avere quest'esito in un contesto nel quale noi per ragioni che io non capisco ma che sono nell'aria abbiamo deciso sostanzialmente che non ci riguarda la scarsità che non c'è vincolo di bilancio che possiamo spendere tutto quello che vogliamo e nonostante possiamo spendere tutto quello che vogliamo siamo qui sono passati tre mesi oramai e non abbiamo ancora un'idea delle dimensioni del contagio adesso si comincia con questa indagine campionaria i reagenti i tamponi eccetera ci siamo costretti a diventare tutti anche degli aspiranti esperti di chimica perché uno segue il flusso delle notizie cioè non lo so se avessero dato mandato a Crozza di scrivere un film comico sulla pandemia forse gli sarebbe venuto uguale con molto rispetto per Crozza sì con molto rispetto per tutti perché nessuno poi dice ma molto più per Crozza però quando uno dice queste cose ovviamente la risposta dell'utente medio dei social è ma che cosa avresti fatto tu lo so che è un gran casino però il fatto che è un gran casino ma io rispondo molto meglio non è soltanto dell'utente medio dei social anche dell'utente medio di Palazzo Chigi ultimamente quella è la risposta assolutamente è la risposta è la risposta anche bravo avrebbe fatto meglio meglio almeno meno uguale almeno uguale ma senti Alberto scusami una domanda sempre su diciamo il mazzucato pensiero ma inteso come paradigma che vale per gran parte della nostra intellettualità e della nostra politica scusa le parole ed è questo quando si parla di stato imprenditore spesso lo si confonde più o meno volutamente con l'idea di stato innovatore e per quello che tu hai per l'idea che ti sei fatto tu leggendo le riflessioni di Mariana Mazzucato questa innovazione raccontiamo la storia questa puntata segue a un incontro privato antico in cui c'erano dei bastoncini da estrarre e quello che pigliava quello sbagliato doveva leggersi tutta ma Mazzucato purtroppo l'ho preso io insomma no la domanda è in realtà duplice da un lato quali sono le caratteristiche dello stato cioè dire cos'è lo stato imprenditore è facile ma quali sono le caratteristiche dello stato innovatore e seconda domanda nel concreto di oggi cosa dovrebbe fare questo benedetto stato innovatore perché far le mascherine non è esattamente la roba che uno si aspetta dallo stato innovatore e peraltro non ci riesce neppure lo stato ecco ma allora il lavoro il libro della Mazzucato sulla cui ambiguità del titolo in traduzione tu giocavi prima che cos'è è sostanzialmente una raccolta di aneddoti alcuni di quali anche interessanti sicuramente un libro piacevole alla lettura per chi ha alcune convinzioni la cui tesi è vedete queste meraviglie che potete comprare nel libero mercato in realtà queste meraviglie se le avete perché c'è stato un investimento pubblico da qualche parte prima che poi è diventato anche questo prodotto accessibile in un negozio attraverso Amazon o quant'altro lei con molta furbizia e anche con con un'intuizione dal punto di vista argomentativo non va a vedere i paesi dove la politica industriale c'è stata ed è stata dichiarata tale ma va a vedere gli Stati Uniti e sostanzialmente dice che l'iPhone è possibile perché nell'iPhone ci sono alcune tecnologie che sono di derivazione militare ora se la tesi fosse l'investimento per altri motivi da parte per esempio degli Stati Uniti perché perché c'era l'Unione Sovietica e bisognava vincerla questa guerra fredda ha prodotto una ricerca la quale a sua volta ha dato la possibilità che un giorno venissero sviluppate delle applicazioni di quella ricerca lì utili anche ai fini commerciali e quindi in qualche maniera l'industria privata ne ha tratto beneficio questa sarebbe una tesi incontestabile perché effettivamente le cose sono andate così tante volte diverso invece dire che c'è necessità di un investimento pubblico perché perché l'investimento pubblico darebbe una direzione alla ricerca io l'idea che mi sono che mi sono fatto è grosso modo questa che questa idea della direzione alla ricerca è molto semplicemente lo Stato la borsa più grande degli altri se possiamo assicurare continuità di finanziamento a tutti i programmi di ricerca possibili a un certo punto qualche cosa di utile si scoprirà perché perché l'investitore privato invece ogni tanto come dire dice basta questo programma di ricerca è arrivato fino a un certo punto non ha prodotto nulla magari andava avanti qualche anno in più qualcosa di utile produceva ma sono due gli elementi più interessanti di questo modo di pensare il primo è l'idea che la scarsità sia un grande problema per la ricerca e l'innovazione e il secondo è l'idea che l'innovazione corrisponde sempre e comunque a un avanzamento di tipo scientifico e non invece alla realizzazione di qualche cosa che è utile per le persone che è esattamente il pezzo che mette l'imprenditoria che mette il mercato e che nessun altro può può mettere c'è questa idea che lo Stato interviene magicamente da direzionalità allo sviluppo per cui in quel pensiero lì oggi ovviamente l'idea è sponsorizziamo finanziamo mettiamo le aziende in qualsiasi direzione green e ne avremo tutti uno straordinario beneficio ovviamente c'è un beneficio ma c'è anche un costo di questo non si parla mai e si evita e si evita sempre di parlare e soprattutto ecco diciamo così questa idea del costo opportunità in quest'ambito particolare sfugge totalmente a questi argomenti alla fine della fiera poi lo sappiamo l'argomento è sempre lo Stato deve intervenire deve entrare nel capitale delle aziende perché quando sarà lì finalmente porterà che ne so io FCA a fare l'auto elettrica anche perché il costo probabilmente diciamo è degli altri quindi uno cerca sempre diciamo di sostenerlo senza problemi oggi abbiamo oramai la notizia sui giornali è se per caso c'è un'impresa che non vogliono nazionalizzare o nella quale non vogliono entrare sui giornali di oggi non ne ho viste di imprese nelle quali non poi è surreale perché c'è tutta questa retorica poi quando le imprese chiedono di usufruire delle garanzie che lo Stato si è vantato di voler dare gli dicono di no si perché non è un altro che è autointeresse invece devono essere più furbe devono fingere con trizione e di sentirsi quasi violentate e in realtà lì ottenere ciò che vogliono però oggi c'è la vicenda di autostrade no? e sostanzialmente si dice noi dobbiamo entrare in autostrade perché? perché in questo modo aumenteremo gli investimenti e abbasseremo le tariffe chi paga è una domanda la cui risposta è troppo ovvia persino per farcela esatto e quindi non la faremo allora noi siamo in chiusura il tempo è tiranno il tempo è una risorsa scarsa vera ma vedrai che la Mazzucato troverà anche il modo di dire che anche quello non è una risorsa scarsa noi ti ringraziamo grazie voi però io sono qui che aspetto ecco ecco però noto e faccio notare che siete stati meno cialtroni del solito no no vabbè che c'è ma perché Alberto ci mette in soggezione Alberto ci mette in riga capisci e quando vengono i generali al fronte Mingardi è un generale del liberismo tu devi stare in riga cioè io e Stagnaro ci siamo messi capisci dobbiamo sdraiare sul divano sempre e sempre il generale con lo scolapasta sul divano esatto e allora Stagnaro abbassa il livello intellettuale della trasmissione regalando torna in te torna in te regalandoci una delle tue riga evviva qui in trasmissione con noi c'è anche l'ammiraglio Mingardi l'articolo 16 e Mingo alle cronache erano i nostri traguardi benissimo benissimo grazie però guarda che Serena la prende come una speranza di chiusura delle trasmissione eh ma Mingo l'abbiamo ottenuto ma l'articolo 16 c'hai tempo allora grazie ancora Alberto Mingardi no aspetta 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 prima di tutto Alberto è credo una delle persone più colte che conosco ma tu lo sapevi cosa dice l'articolo eh vabbè ma tu lo sapevi cosa diceva l'articolo 16 prima di vederle cronache ma guarda dopo che sta rilendo anche detto a Carlo l'altro gli ha specificato che quello è l'articolo 1 io non mi azzardo a dire la bugia l'articolo 16 non sapevo neanche che ci fosse pensavo sapevo l'1 il 41 l'81 quelli lì erano solo quelli con 1 sapevi poi anche il 117 a dire il vero dal 117 al 119 li sapevo guarda che sembrava non ho bisogno di consolarvi però non è che per essere colti bisogna sapere la Costituzione cioè sono due cose no no ma infatti noi vivevamo lo stesso però non sarai colto ma se non sai la Costituzione è legittimo pensare che tu sia un po' un po' direi che l'abbiamo imparato tutti comunque l'articolo 16 resterà sempre nei nostri cuori ora faremo faremo anche le magliette va bene grazie ancora Alberto buon lavoro ciao a tutti ciao ciao